Adesso, iniziamo, entrare in pista, io guardo che non la rischia nessuno rispetto alla linea bianca, accendere un po', la pista è libera, bravo, ma nell'interno della linea mafka è qua, un po' che l'acceleratore è qua, 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 poi i cordoli, gli schioli, possibilmente senza montarci, insomma, lo prendiamo qua a stradale, il calcio nel pò, il primo Federale è qua, l'unico, l'acceleratore è qua, l'acceleratore è qua anziamente, seleziono a possono l'acceleratore, la pista è qua, l'acceleratore è qua, a poter aiuta stanza. Guarda, facciamo passare in privilegio, la pista stanza, facciamo passare in pidanciato, 하면, per non segurança, Questa è la pugilare, in terza o di seconda la vediamo, la sceglia. E' un'altra spesa. Cerco di stare fino a destra, troppo di aspri. Com'è? E' un'altra spesa. E' un'altra spesa. E' un'altra spesa. Va bene, perciò sta all'argino qui. E' un'altra spesa. E' un'altra spesa. Preno. Prenatino. Un pochino, una spesa, un pochino che spesa qua. Vedete che stiamo molto in tutto. E' così. Fai una frenata. Ogni freno da lascia stare. Up e per frenare. Qui al freno. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti